buona lì eccoci oggi al baito dei slavazzi questa struttura in legno anche abbastanza vecchiotta si può dire lì c'è la legnaia ecco lì baito slavazzi o slavazzi non so come si pronunci lì abbiamo la fontana dentro abbiamo questo bel ambientino una stufa caldissima ieri sera faceva un gran caldo legna bisogna tagliare ogni tanto un tavolo un bel letto a castello con i materassi e di qua un angolo per col tavolo cibo sedie quant'altro possa essere necessario le innumerevoli guide dei passanti qua anche dei bei disegni esempio guardate qui d'inverno cosa ci aspetta ma il posto davvero è qui fuori dalla finestra